ragazzi sono sfinito abbiamo finito sto facendo l'ultimo backup è stata un'esperienza bellissima ma anche faticosa come sempre e comunque viva l'america specialmente sui pagamenti altro che italia 90 giorni 60 giorni qui proprio cinque giorni prima già pagano italiani imparate aziende italiane imparate che non lavorerò più per voi proviamo se vuoi l'acqua calda tu devi passare per forza dalla fredda e andare all'acqua calda se tu gli aspetti che essi l'acqua fredda che mori puoi essere la merata sta davanti a tutto ma un rubinetto il rubinetto piove piove è molto grigio ci sono suoni suoni disturbatori ovunque in questa città allarmi bip sirene c'è tutto ed è più una cosa che ci serve assolutamente se venite qui è la connessione perché senza connessione sei perso ci sono tantissime connessioni free però devi stare fermo ci siamo al memorial la memoria che mi ricordo che erano le torri gemelle ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, Davide, Francesca. Mi vedo più contento. No, va, gli uomini nessun bacio. Si spingono così, si abbrassano. Tutto automatico qui, Ciro? Sì, sì. Allora, ci spiegava Ciro che qui praticamente fare i camerieri non è come da noi che vieni stipendiato, ma i soldi che fanno loro sono le mance. Ma le mance qui è obbligatorio, cioè tu puoi mangiare la pizza e proprio quando c'è lo scontrino, oltre al prezzo della pizza, non so, 40 dollari, 50 dollari, ci sono 20 dollari de mancia. E' scritto, proprio scritto, non è che tu vuoi... Sì, alcuni te lo scrivono direttamente, quindi ti mandano la check con 100 dollari e sotto la, fra virgolette, la tip che ti vanno, bravissimo, il 15, il 18 e il 20. Realmente mangiamo una pizza, una pizza italiana. Nei vasi invece troviamo dei bellissimi fiori, insalata. Sono andando al negozio, cioè per noi i videomaker, i fotografi, eccetera, il punto centrale del mondo. Ragazzi, da un passi qua, da un passi non sai dove hai guardato gli occhi, è troppa roba. Sì, c'è di tutto, dai strumenti, ai microfoni, alle luci, agli supporti, tutto, tutto, quello c'è tutto. Qui c'è una gabbia per provare tutti i tipi di drone. Qualsiasi drone vuoi provare, te lo fanno provare qui. Grazie. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti